nome, cognome, età? Virginia Bossi, 17 anni. Altezza e numero di scarpe? 1,73, 40. Non era difficile. Eh, ce l'ho pensato. Ma avevi i capelli così anche l'anno scorso? No. Ok, parlaci del colore dei tuoi capelli. È stato un piccolo sbaglio. Momento proverbi, a carnevale? Non ho idea. Tutto vale, tutto vale, tutto vale. Tutto vale, non è così però ci piace. No. Al contadino non far sapere niente. Altezza? Ho già detto. 1,70. No, erano i proverbi. Cancabaya? Non no, non qualcosa. Non la sa. Cancabaya non la sa. Ok, iniziamo. A quanti anni hai iniziato a giocare a golf? Circa 5. Perché giochi a golf? Perché è un bellissimo sport e ti rilassa e è davvero bello. Ti rilassa? Sì. La cosa più bella del golf? Che è all'aria aperta e che giri tantissimo, viaggi per tutto il mondo. La cosa più importante nel golf? Avere pazienza. Facci vedere il tuo grip. Facci vedere il tuo grip da mancino. Così? Che brutto. Ma il... Boh, così. Interloco overlap. Overlap. Drawfade. Fammi vedere quando guardi la linea del pat. Boh, metto il pat davanti e... Hai 5 secondi per dirci gli ingredienti delle lasagne. Ragù, pomodoro... Ma il ragù è fatto col pomodoro? Carne? Non lo so, dai. Fai la faccia della tua emoticon preferita? Una da guerriero? Un po' più guerriero? Faccia da selfie? Handicap aggiornato? Più 3 qualcosa. Dove giochi il tuo circolo? Golf tolcinasco. Quanto ti alleni? Quattro giorni a settimana sempre e quando passo un po' di più, un giorno in più se riesco. Chi è il tuo coach? Enrico Trentine e Laura Mantegazza. Parlaci un po' dello staff che ti segue? I miei maestri Enrico e Laura, Bob Zappa per il pat e Alea Verna per performance coach. Bene, fai altri sport? No. Come mai? No. Pregi i difetti del tuo carattere? Pregi? Ho abbastanza pazienza ma difetti dopo un po' tendo a arrabbiarmi forse un filo troppo. Cosa pensa la gente del tuo swing? Non hai idea, chiedilo a loro. No, ma secondo me è bello. Quanto fai col ferro 7? 145. Col drive? Non hai idea, 220. Come non hai idea? Non hai idea, tiro e va. Rischi o meglio fare le IA? Dipende dalle situazioni. Però di solito? Rischio. Le tue vittorie in carriera? Under 14 e match play trofeosino. Dove sarai fra cinque anni? Al college. Ah, bene. Dove? In Virginia. Il tuo idolo sportivo? Shan Shan Feng. Chi? Ah, gioca sul PGA. Ah, grande, è vero. Bene, facciamo pausa. Radice quadrata di 144. A posto. Hai mai contato i dimple della pallina? No. Non sai neanche quanti sono? No, un po'. Più o meno? Boh. 30. Dopo controlliamo. Prova a dire supercalifragilistiche spiralidoso. Supercalifragilistiche spiralidoso. No. Supercalifragilistiche... No. La scuola come va? Bene. Materia che odi? Latino, perché secondo me è inutile. Ubi Mayor. Perfetto. Con chi volesti andare in vacanza quest'anno e dove? Con mia sorella. Ma lei non so se vuole. Eh, con mia sorella, boh, da qualche parte di bello. Sei felice? Sì. Come ti chiami su Facebook? Virginia Bossi. Su Instagram? V Bossi. Su TikTok? Non so cosa sia. Zortan? Flisker? Proper? Di che segno sei? Gemelli. E lui? Leone. Ah, ci hai pensato un po'. Non è che ne hai due magari... Abbiamo finito, adesso sapendo tutto di te. In dieci secondi, guardando in camera, spiega al mondo che cos'è il golf. Il golf è uno sport che spesso quando dici che lo pratichi dicono che è per vecchi, ma vi assicuro che non lo è affatto. Saluta nel tuo dialetto. Uè, ciao! Codice fiscale o memoria? B, S, S, V, G, ciao!